PITER POLVERINI nel carcere di Orvieto. Adesso la difesa del giovane è rappresentata dagli avvocati Piero Melani-Graverini e Mario Cherubini punterà nuovamente sulla semi-infermità mentale già riconosciuta dal GIP Pier Giorgio Ponticelli in primo grado per ottenere uno sconto di pena per il loro assistito. L'omicidio di Katia si consumò nella notte tra l'11 e il 12 luglio. Il corpo senza vita della donna venne ritrovato da un passante sul greto del torrente Afra Sansepolcro il mattino successivo. Peter e Katia quella sera si erano appartati. L'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite per soldi. Il 26enne avrebbe prima aggredito la donna con ferocia pugni per poi tentare di strangolarla ed infine finirla con un martello prima di far scivolare il suo corpo sul greto del torrente. Per lui le manette scattarono nel settembre 2016 quando i carabinieri dopo mesi di indagini serrate lo arrestarono nella sua abitazione alle porte di San Giustino Umbro.